no, prima l'hai fatto meglio prima si, prima l'hai fatto bene adesso no bisogna rimallenarsi un po' con due o tre tronchi provare, provare, gestirla bene perché quando devi scaricare va bene portarsi in avanti invece devi stendere un po' le gambe e far lavorare il mono cosa pensavo con tutti questi tronchi metterne uno per terra metterci una tavola sopra fissarlo in modo tale che incominci con l'equilibrio fai tutto il tronco e tanto anche se cadi, cadi tanto così poi andiamo a fare i tubi c'era qua una riva con due gradini in uscita no, basta mettere un tronco del genere per l'equilibrio ci mettiamo una tavola sopra lunga in modo tale che facciamo il passaggio per l'equilibrio capisci? si si solo dritto così però ti abitui a avere un po' di sensibilità vieni? no, basta mettere un po' di sensibilità ma anche questa salita qua c'è proprio due gradini in uscita dove è un po' di sensibilità ci si può allenare a tenerla alta allora non avere paura perché la facciamo a metà poi giriamo e siamo sul piano e dopo sono quei due gradini in uscita per allenarsi a tenerla alta guarda eh da qua no non è difficile eh perché la guardi da giù vieni qua e fermati fermo 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 lì fermo non è no, no, è riuscire a tenerla a ruota su esatto vabbè prima volta prova a farla come vuoi tanto per prendere confidenza e poi prova a via a tenerla impennata e adesso mi sposto mi metto di qua inizia a farla come te la senti per prendere confidenza e poi prova a tenerla alta eh eh questo è l'ideale per imparare a tenerla alta e poi più ci prendi la mano è un bel passaggio questo qua un bel doppio e poi non è pericoloso ti mette un po' di paura perché lì c'è buono perché vedi lì però qua sei in piano cioè qua sei in piano non è un allora mi sei alzata bocca però davanti non l'ho toccata esatto no, non l'hai toccata devo imparare a farlo bene su una ruota poi più prendi confidenza più la tieni alta davanti che la fai proprio eh sì bisognerebbe trovare qualcosa del genere secondo me quel passaggio qua è bello bello sì oh poi se si fa paura qui si sta proprio di qua si pela qui si prende qua che qua è anche più basso il secondo sì, mi sa che io l'ho preso no, vabbè si è passato qua sì sì eh, sono dai, pian pianino sì 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 sì